Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di oggi, mercoledì 11 gennaio. Allora, sui giornali oggi ci sono tantissime cose, nelle prime pagine del giornale ovviamente ci sono tutte le cronache, sia quelle giudiziarie, sia quelle di risvolti politici degli spioni, cioè di questi due fratelli romani che avrebbero spiato 18.000 persone, tra cui Renzi, Draghi, il capo della Guardia di Finanza, i cardinali, ma 18.500 persone è un numero incredibile che avrebbero immagazzinato queste spiate in dei server americani, il posto in cui le spiate sono punite come se fossero un omicidio, cioè il posto più drammaticamente giustizialista nei confronti della cyber security, il che vi fa pensare che ovviamente questi due signori non sono da soli e che ci vuole un grande Stato, un grande servizio, magari che ha minor timore delle accuse da parte degli Stati Uniti nel fare tutta questa operazione di indagine. Non è molto chiaro sui giornali questo, però se volete ve lo dico molto più chiaramente, dietro a queste due persone mi sembra del tutto evidente che ci sia qualche servizio e che non siano stati fatti da soli. L'altra cosa incredibile sui giornali, secondo me a mio avviso, riguardo a questa operazione è che a me sarebbe piaciuto, forse perché sono un po' più fissato, avrei voluto qualche spiegazione tecnica in più, come possono intercettare il mio telefonino, come si può evitare che sia intercettato, come è possibile che Renzi abbia il suo cellulare intercettato, io avrei fatto pagine e pagine, ma probabilmente sono un fissato su queste cose, per cui avrei voluto più che spiegazioni politiche, spiegazioni tecniche sul motivo, anche perché i giornali almeno a questo si prestano molto meglio che la televisione, su come evitare questo spionaggio, su che cosa sono gli spionaggi, cos'è il malware, non 15 righe di Paolo Ottolina molto sintetizzate, avrei voluto molto di più, avrei avrei voluto spiegazioni molto più ampie, però tutto questo ha un peso fino a un certo punto, la cosa fondamentale oggi sui giornali, fondamentale, credetemi, e per quello adesso sto facendo con il mio Samsung la rassegna stampa e non con il mio iPad dove ho le, e così le cito sia Apple sia Samsung, tutte e due, la rassegna stampa la sto facendo con un telefonino e non con l'iPad come faccio in genere, è la lettera di un preside che è il, adesso vi dico il nome perché è fondamentale il nome, Nadia Vidale, che è preside del dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale Severi di Padova. Se voi leggete questa lettera e quindi ve la leggo io, capite che siamo morti e che la fedeli invece di fare il ministro della CGL facesse il ministro della pubblica istituzione, ma la prima cosa che ha fatto la fedeli ovviamente il ministro della CGL è fare l'accordo con i sindacati, sentite questa storia e ditemi se questa storia non vi fa capire che siamo morti e che, vabbè, ve la leggo. La lettera è indirizzata dal preside a un suo professore. Egregio professore, lei ha avuto la sorte fortunata, tale ad aritenersi difficile contingenza economica, di aver ottenuto recentemente un posto di lavoro statale insegnante. Quindi la preside dice lei è stato fortunato e è stato assunto come insegnante, un posto a tempo indeterminato, insegnante di diritto in una bella e grande scuola di una città importante, cioè Padova. Data la sua età, forse non se l'aspettava, probabilmente questo è arrivato tardi a fare insegnante perché sarà stato precario molti anni, ma penso che l'abbia credita perché ha accettato la proposta. Un motivo familiare, tuttavia, così espresso di fronte agli studenti della nostra classe il 23 dicembre scorso, lei aveva impedito di assumere servizio. Cioè il 23 dicembre lui si presenta al servizio e dice fino ad oggi non ho potuto avere, per motivi familiari, non ho potuto assumere il servizio. Impedito di assumere il servizio, quindi dal 12 settembre del 2016, primo giorno di scuola, infatti lei era assente e noi ci siamo impegnati con mille difficoltà per trovare un sostituto. Lei forse non lo sa, non avendo nonostante l'età alcuna esperienza di scuola, che trovare un supplente è difficilissimo. Nel suo caso ci siamo riusciti finalmente il 2 dicembre. Quindi i ragazzi sono andati a scuola dal 12 settembre senza il professore. Il 2 dicembre hanno trovato un sostituto che è un supplente e il 2 dicembre è arrivato il supplente in questa scuola. Benissimo, quindi cosa hanno fatto fino al 2 dicembre questi studenti? Nulla, non gli hanno insegnato nulla. Ma il 2 dicembre abbiamo anche noi avuto una fortuna, quella di trovare una giovane docente entusiasta e coinvolgente. Quindi il preside dice che il 2 dicembre abbiamo trovato una super stupenda supplente e siamo stati molto fortunati, ma purtroppo il 22 dicembre l'ho licenziata in obbedenza al suo superiore diritto di occupare quel posto in quanto docente titolare, perché lei finalmente il 23 dicembre è ritornato a scuola. Quindi ha preso una supplente, il 2 dicembre l'ha fatta lavorare 20 giorni dopo che gli studenti non avevano trovato nessuno fino al 2 dicembre, l'ha licenziata il 22 perché il 23 dicembre è ritornato il titolare della cattedra. E finalmente il 23 dicembre, il giorno prima delle vacanze di Natale, lei si è presentato alle classi. Professore, io mi impegno a trasmettere le sue parole ai ragazzi e ai loro genitori che insieme a me si chiedono cosa è venuto a fare. Poche ore dopo l'ingresso nella scuola presentava all'ufficio personale una nuova richiesta di congedo, stavolta dal 9 gennaio del 2017. Quindi questo non si presenta fino al giorno prima del Natale, il 23. Fa licenziare perché se arriva a lui si licenzia la precaria supplente, poi dice domani si va in vacanza, il 9 gennaio richiede il congedo. Si è presentato un giorno solo e poi ha detto il 9 gennaio che voleva ritornare il congedo. Noi non ci siamo persi d'animo, la tenace è una delle virtù della scuola italiana, bellissima e disgraziata. Abbiamo ricominciato durante le vacanze di Natale a cercare un nuovo supplente perché come lei sa bene non si può richiamare il supplente precedente. Quindi la maestra che era stata, la professoressa che aveva fatto 20 giorni di supplenze che loro avevano dato il 2 dicembre e che piaceva tanto agli studenti non si poteva richiamare perché era già stata supplente in quella scuola. E quindi cosa è successo? Si è dovuto trovare un nuovo supplente ancora. Allora io mi dico, intanto leggetevi questa lettera e poi mi dico questo professore deve essere, scusatemi, messo in galera. In galera! Perché sta rubando i vostri soldi, i nostri soldi. Arriva il 23 dicembre e poi il 9 gennaio deve essere messo in galera questo professore perché se è messo in galera un pubblico funzionario per abuso d'ufficio, questo non è abuso d'ufficio, questo è furto dei nostri soldi, furto delle mie tasse. Io pago il 50% di tasse per pagare questa cazzo di scuola, per pagare questo professore che si presenta il 23 dicembre a scuola e dice che vuole andare in congedo il 9 gennaio. Ovviamente ci saranno delle leggi che glielo permettono, ovviamente i sindacati lo difenderanno, ovviamente la soluzione, sapete quale sarà dopo la lettera del Corriere della Sera? Che il professore rinuncerà al 9 gennaio probabilmente, se riusciranno, rinuncerà al suo nuovo congedo, se rinuncia al suo nuovo congedo questo deve essere preso a calci nel sedere e mandato via dalla scuola perché questo non è un insegnamento per i giovani, cioè tu insegni a un ragazzino di fottere il prossimo, fottere il contribuente, fottere il vicino di casa e il solo fatto che ci ha provato non è... e questo sapete cos'è l'insegnamento? Di diritto, questo è un professore di diritto, un professore di diritto, questa roba qua è la prima pagina del Corriere della Sera e quando leggete questa pagina qua vi chiedete perché fa schifo il sistema pubblico italiano e vi chiedete perché la gente non vuol pagare le tasse e vi chiedete come si educano i figli al nostro futuro, ma altro che fuga di cervelli, qua bisogna prendere i professori e prenderli a calci nel sedere se fanno questa roba qua e bisogna ringraziare quei pochi presidi che hanno il coraggio di scrivere una lettera di questo tipo, che mandano a quel paese i sindacati che li coprono e quei professori che non è stante tutto sono ancora orgogliosi del loro mestiere. Io sono... quando leggo una lettera di questo tipo mi viene, come avete capito, mi viene il... un attacco isterico, non è possibile, non è possibile, non è possibile, avete capito bene che cosa ha fatto quel professore? È stato assunto, fino al 23 non si è presentato, il giorno prima di Natale si è presentato e poi ha chiesto il congedo fino al 9 gennaio, ha distrutto l'istruzione di quegli anni dei ragazzi e ha distrutto la vita di un supplente che si è fatto 20 giorni di supplenza e non potrà essere richiamato. Le nostre leggi sulla scuola fanno schifo, sapete chi ci vuole? Io voglio al Ministero della Pubblica Istruzione De Luca, voglio al Ministero della Pubblica Istruzione Sgarbi, voglio al Ministero della Pubblica Istruzione Donald Trump, voglio qualcuno che arrivi al Ministero della Pubblica Istruzione e come prima cosa, prima cosa faccia fuori chiunque iscritto a un sindacato, tutti, tutti e la prima cosa che faccia è dica ai cari professori che il loro obbligo a scuola è di servire l'educazione degli studenti, il motivo per il quale in Italia non si cambia classe sociale, i ricchi rimangono ricchi e i poveri diventano poveri è che il ricco si può permettere una scuola che i poveri non possono permettersi e questo è uno di destra, liberale come me, è fissato, lo dicevano i Naudi, lo diceva Valitutti, lo diceva Friedman, se la scuola è questa scuola, cioè la scuola dove un professore e i sindacati pensano ai cazzi loro e non a quelli degli studenti, avremo mobilità sociale pari a zero in questo paese e rimarremo così, nella scuola del... sapete che ci vuole? Sapete che ci vuole? Quell'altro... Vabbè, lasciamo perdere. Queste robe qui mi raccontano proprio un'Italia che non mi viene la voglia di fare più altro che rassegna stampa. Io voglio il nome e cognome di quel professore, altro che mandare i NAS a Nola dove i medici provano anche se per terra a risolvere i problemi sanitari, io voglio un ispettore con i controcavoli che vada nella scuola di Padova, prenda per il colletto questo professore e gli dica lei per i prossimi vent'anni se vuole trovare un lavoro, se lo trovi fuori dalla pubblica amministrazione. Va bene? Non è possibile, le nostre leggi fanno schifo ma anche l'utilizzo e l'abuso delle nostre leggi fa schifo. Sapete come si chiama questo nel fisco? Abuso del diritto. Voglio vedere come si chiama nella nella scuola. Vi saluto, sono veramente arrabbiato per fortuna che stasera non c'è Matrix, giovedì ritorniamo con Matrix e grazie a tanti di voi che ieri sera hanno seguito la nostra puntata. Oggi mi è andata così. Ciao.